Dal pianoforte al violino al violoncello fino al lobo e la lirica e gli strumenti a fiato è arrivato a conclusione il Monte San Savino Festival, oltre 150 i ragazzi che sono arrivati nella cittadina della Val di Chiana per perfezionarsi. Il concerto conclusivo sabato 3 agosto alle 21.15 ad ingresso gratuito nel teatro all'aperto dei Giardini Pensili, Trumpet Harmonies, 18 trombe per un viaggio musicale dalla classica fino a Egno Morricone, Nino Rota, Astor Piazzolla e i Queen. Direzione artistica del maestro Andrea Lucchi, prima tromba dell'Orchestra Sinfonica Nazionale dell'Accademia Santa Cecilia. Sono qua con 12 ragazzi molto bravi, desiderosi di apprendere questa arte, di suonare la tromba, con i quali poi a fine percorso di questa settimana faremo un concerto in una location bellissima all'aperto, dove eseguiremo arrangiamenti per gruppo grande di trombe, che ha detto così uno magari immagina che sia una cosa un po' bandistica in realtà, è di tutt'altro livello, molto raffinato, e si suoneranno musiche di generi più vari praticamente, suoneremo musiche di Rota, di Morricone, di Piazzolla, suoneremo qualcosa dei Queen anche, quindi sarà una serata bella, ricca di emozioni e soprattutto alla portata di tutti, perché non è la musica classica magari che uno non è abituato a sentire, sono musiche orecchiabili, conosciute, quindi sarò felice di prendere parte a questo bellissimo concerto.